Ciao bambini, io sono Consuelo, oggi voglio presentarvi gli animali della mia fattoria. Lei è la nostra mamma Bunny, con tutti i suoi piccolini che stanno uscendo. Lui è il nostro asino lucignolo, loro sono i nostri cagnoni, lui è Zagor e lei è Laki. È arrivata una nuova pulcina, Elodie, e poi abbiamo tutte le nostre galline e anche il gallo. Lui è il pavone, però è appena arrivato qua e quindi non so ancora dargli un nome. Mi aiutate a scegliere un nome adatto? E secondo voi, il pavone, che cos'ha di bello? Qual è la sua caratteristica? Me lo sapete dire? Poi qua insieme al pavone vivono due tartarughe. Quella grande grande è la femmina e si chiama Lenta. E poi c'è quella più piccola che è il maschio, che si chiama Mente. E poi c'è quella più piccola che è l'immagine. E poi c'è quella più piccola che è il momento.